Buonasera, bentornati a TG2 Post. Grazie Alessandro Poggi e la sua copertina do subito il benvenuto all'onorevole Giorgio Mulè di Forza Italia, sottosegretario alla difesa. Buonasera, grazie. E anche la bentornata, anche l'onorevole Raffaella Paita di Italia Viva, onorevole, buonasera anche a lei, Gerardo Villanacci, professore ordinario di diritto privato. Professore, buonasera anche a lei. Io partirei da che cosa? Onorevole Paita, vorrei partire con lei perché il centro-sinistra, abbiamo visto, poi parleremo anche degli incontri di oggi di Fratoianni e di Bonelli con il segretario dell'età, è tutto da comporre. Però Italia Viva forse un'idea ben chiara già ce l'ha. Confermate di andare in solitaria? Italia Viva ha un'idea chiarissima sul come proporsi agli italiani in questa campagna elettorale, in autonomia, distanti da una destra che ha provocato la caduta del governo Draghi assieme al Movimento 5 Stelle e a una sinistra che sta discutendo da ormai diversi giorni solo ed esclusivamente di poltrone, di posti, di seggi. Noi siamo interessati invece a parlare della vita degli italiani, dei loro bisogni, delle loro esigenze, di come provare ad aiutarli per affrontare il tema del caro bollette, del come provare a risolvere il problema dell'autonomia energetica di questo Paese, per esempio realizzando i rigassificatori e le infrastrutture necessarie ad essere più indipendenti e autonomi dalla Russia in questo momento. Abbiamo l'esigenza di parlare del tema del lavoro, di come proviamo ad abbassare il tema del cuneo fiscale, di come ancora diamo una mano alle famiglie per quanto riguarda il settore della sanità, tema di cui si discute pochissimo e che poi ritroviamo come emergenza durante la pandemia Covid, ma poi la sanità pubblica viene lasciata in condizioni inaccettabili. Ecco, tutto questo era un patrimonio inserito dentro l'agenda Draghi, perché la risposta a questi problemi stava dentro il PNRR, il finanziamento enorme che eravamo riusciti ad ottenere. Ed è davvero inspiegabile che il Movimento 5 Stelle e la destra abbiano provocato questa crisi che indebolisce il Paese dal punto di vista, e lo vedremo, della politica estera e quindi di ciò che sta avvenendo nel mondo, ma anche rispetto al ruolo che noi abbiamo in Europa. Allora, onorevole Molè, magari vuole rispondere anche alla crisi da chi è stata poi provocata. In base a questo, però, volevo chiederle, avete avuto anche voi delle fuoriuscite dal partito, anche a, non so, Silvio Berlusconi, Presidente, questa mattina ha detto anche deluso personalmente. Ecco, come è cambiata Forza Italia? Forza Italia non è cambiata. Forza Italia è rimasta coerente nei suoi valori e in quello che esprime nelle sue idee. Il fatto che alcune persone abbiano deciso di andare via obbedisce più a qualcosa che riguarda la loro coscienza e la loro dignità rispetto a chi li ha eletti in quel posto, non essendosi dimessi da ruoli che ricoprivano, non perché si chiamano con un nome o un cognome, ma perché rappresentavano una comunità politica. Detto questo, i sondaggi, fino a questa sera, in maniera totale, da qualsiasi istituto di sondaggi, certificano che Forza Italia non ha perso un voto e ha guadagnato, da quando è caduto il governo Draghi, quando si è dimesso il Presidente Draghi, punti percentuali. Significa che evidentemente là fuori hanno capito e hanno capito che quella crisi, come ha raccontato Matteo Renzi a Bruno Vespa dieci giorni fa, è una crisi che è stata causata, e l'ha raccontata benissimo, perché lui conosceva avendo vissuto la realtà, presupponeva la creazione di un conteter mascherato, con il tentativo avanzato dal Partito Democratico, espertissimi in inganni, tanto da aver governato questo Paese da dieci anni, senza mai aver vinto un'elezione, e presupponeva un appoggio esterno del Movimento 5 Stelle, malconsigliando il Presidente Draghi all'atto della votazione della risoluzione di fiducia. Ma io, come dire, guardo avanti, e per guardare avanti devo guardare a quello che va fatto, e che il centrodestra, in maniera coesa e comune, presenterà di qui a pochi giorni, con un programma che è già definito con 15 punti essenziali, che partono da un etalantismo e da un europeismo non di maniera, ma nei fatti, perché nei fatti, abbiamo dimostrato dalla crisi dell'Ucraina a... Poi le chiederò anche di politica internazionale. ...quello che vogliamo fare, ma pensando a problemi che sono emergenziali, ad esempio sul decreto aiuti di questa sera, che è una misura definita da alcuni un pannicello caldo, abbiamo la necessità, non appena si voterà, e questo centrodestra governerà, di dare delle risposte, che devono essere però pesanti. Non puoi mettere soltanto 10 euro nelle tasche degli italiani che guadagnano 1000-1200 euro. Deve avere la capacità di fare un intervento nell'ordine, ad esempio, di 9 miliardi, che recuperi, indicando le coperture, che ti consentono di dare un bonus ogni mese, non una tantum, di almeno 100 euro. Ecco, professore Villanacci, lei questa mattina sul Corriere della Sera parla della nuova legge elettorale, che di fatto, lo sappiamo, dimezza il numero dei parlamentari. Lei è molto critico anche in quel fondo, e secondo lei parla di una crisi di rappresentanza addirittura. Cosa vuol dire? Un rischio che pavento è che tutti dovrebbero avere presente, perché siamo reduci da un referendum il più fallimentare della storia, nel senso che vi è stato un disinteresse assoluto da parte dei cittadini. Crisi di rappresentanza perché ci troviamo di fronte ad una legge elettorale. Sarebbe anacronistico oggi parlare se sia stato giusto o meno la riduzione dei parlamentari. Questo è un tema che non ci interessa più. Ma certamente c'è un fatto evidente, che a fronte di quella riduzione dei parlamentari non sono intervenuti provvedimenti legislativi che avrebbero dovuto in qualche modo contemperare, diciamo così... Ma legge a metà, dice lei. O perlomeno non con dei contrappessi adeguati. Se noi basta considerare che abbiamo una legge elettorale evidentemente inadeguata rispetto alla riduzione dei parlamentari, è la circostanza evidente a tutti che ridotti il numero dei parlamentari resta un bicameralismo perfetto. E quindi non capisco la ragione effettiva di una riduzione che alla fine prevede delle circoscrizioni, in alcuni casi al Senato, di un milione di persone. E questo è un tema. Le persone credo debbano sentirsi più vicino all'istituzione e ai loro rappresentanti e non credo che questa legge aiuti a farlo. È stata una giornata e magari lo è ancora abbastanza movimentata soprattutto per quanto riguarda il centrosinistra sulle alleanze, ma andiamo a Montecitorio da Barbara Romano che ci spiega meglio e ci fa il punto su cosa è accaduto. L'incontro c'è stato e è terminato, Barbara, tra la sinistra italiana, Verdi, e il segretario del Partito Democratico Letta. Sì, buonasera. L'incontro è terminato poco fa, è stato un incontro interlocutorio. Bonelli, Fratoianni e Letta si sono dati appuntamento fra 48 ore a darci il polso della trattativa. È stato Fratoianni uscendo, soltanto lui e Bonelli hanno parlato e ci ha detto che hanno potuto constatare la forte volontà da parte di Letta di raggiungere un accordo e di rendere centrale questa intesa nella campagna elettorale. Sia Verdi che Sinistra italiana hanno, diciamo, piantato i loro paletti e hanno ribadito che per loro è irricevibile. L'agenda Draghi, che lo ricordiamo, è un po' uno dei capisaldi dell'intesa con Calenda e con della Vedova. E poi hanno detto che per noi non esiste neanche l'ipotesi dei ricassificatori, la riforma presidenziale. Insomma, hanno piantato una serie di paletti e però appunto si aprono degli spiragli ed è una versione anche confermata dal PD perché da quello che fanno filtrare dal Nazareno appunto dicono che si sono fatti passi avanti e che il segretario è fortemente determinato a raggiungere un'intesa con i Verdi e con Sinistra italiana per formare una coalizione la più larga possibile e contrastare la destra a sovranista. Ma questa è una partita che si gioca su due tavoli perché anche Conte sta molto corteggiando Fratoianni e Bonelli li ha sentiti oggi come lo stesso Conte ha raccontato ha detto considero Fratoianni una persona molto seria non ci sono mai state ruggini con Bonelli noi siamo in grado di soddisfare l'elettorato di Sinistra e di contrastare l'agenda della destra quindi insomma è tutto in divenire. Invece è in stand by la trattativa con Di Maio un altro dei protagonisti di questa fase che è molto deluso dall'accordo raggiunto tra Calenda e Letta perché lo costringe in sostanza a candidarsi nelle liste del PD si sono visti per due giorni consecutivi non ci risulta che ci siano stati incontri oggi invece per quanto riguarda Renzi conferma la corsa solitaria lui è convinto che Italia Viva sarà la vera sorpresa di queste elezioni nel centrodestra va avanti senza intoppi al momento diciamo sia il tavolo del programma che il ragionamento condiviso sui collegi nonostante ci siano momenti insomma di freddezza tra Meloni e Salvini Meloni che per esempio ha frenato la corsa diciamo di Salvini di ritorno al Viminale però insomma lì c'è una forte determinazione a restare uniti a voi grazie grazie Barbara Romano per il punto di giornata come sempre onorevole Paeta lei scrive su Twitter ce l'abbiamo sicuramente ho perso il conto dei punti che inviano a Letta prima Calenda ora Bonelli frato gli anni quando le leadership sono deboli si finisce strattonati in tutte le direzioni e si cade in contraddizione noi non prendiamo condizioni di nessuno avanti a testa alta ma Letta è una leadership debole secondo lei è una leadership debole perché vuole mettere insieme tutto il contrario di tutto in una unione 2.0 che sicuramente non è in grado di governare questo paese se siete così d'accordo con Forza Italia potete pensare a qualcosa di diverso verrò poi al tema diciamo Forza Italia questa è una considerazione logica che ha dato l'unione Paeta prego non è politica è logica è sintattica quello che a me ha stupito moltissimo di questa strategia è invece l'operazione Calenda perché Calenda fino a un giorno prima aveva sostanzialmente detto che non sarebbe mai stato in alleanza con un partito che portava con sé al suo interno Di Maio oppure Frantoiani e Bonelli cioè persone che hanno su notevoli questioni non soltanto quelle che ho citato precedentemente gas energia termovalorizzatore di Roma ma anche sul tema della politica economica cioè stiamo parlando di Di Maio che è stato sostenitore del reddito di cittadinanza fino all'ultimo allora Calenda ha perso un'occasione che davvero sarebbe stata preziosa anche per evitare che la destra vincesse le elezioni cioè quella di dar vita a un terzo polo con noi capace di offrire qualcosa di diverso al paese ripeto non una armata Brancaleone ma una proposta credibile per l'Italia a proposito del centro ha detto che se Renzi volesse un centro dovrebbe farlo con Forza Italia guardi Silvio Berlusconi con la caduta del governo Draghi ha cancellato come per magia ogni sua credibilità al centro perché una forza politica che determina la caduta del premier più autorevole di cui disponiamo che determina una conseguenza in termini di credibilità per il nostro paese non può definirsi di centro non può definirsi moderato lui purtroppo nella fase conclusiva della sua carriera politica ha scelto di stare parte integrante del progetto di Salvini e quindi è diventato di fatto un sovranista Onorevole Mulan ma guardi detto che il presidente Berlusconi non è affatto alla fine della sua carriera politica ma interpreta da leader di un partito quello che sta facendo e ha fatto io non mi sento orfano del draghismo detto che il governo Draghi nella migliore dell'ipotesi sarebbe andato avanti fino a dicembre perché poi la democrazia a un certo punto bussa e bisogna anche votare quindi come dire non è finito il mondo lo spread sta sotto i 200 la borsa ha guadagnato 4 punti doveva finire il mondo invece ogni mattina continua a sorgere il sole perché? perché noi riteniamo che a un certo punto la politica debba avere il coraggio di esprimersi agganciarsi a quell'agenda facendolo peraltro nel modo più ipocrita possibile come ad esempio fa la sinistra laddove stasera il segretario del PD letta a proposito di questo guazzabuio di questa babele sui ricassificatori non trova meglio di dire lo leggo testuale nel patto c'è scritto autonomia programmatica sono questioni sulle quali possono esserci posizioni diverse e qui viene il bello non è che su tutti i temi si deve essere d'accordo su tutto quello è il patto tra noi e Calenda non è il patto di tutti sa cos'è questa? l'autonomia programmatica è una anarchia governativa perché il 26 settembre se questi signori dovessero vincere onorevole Mule sei alleato a Piombino c'è un sindaco di Fratelli d'Italia che è contrario ai ricassificatori ti prego facci la cortesia facci la cortesia io sono d'accordo con te te la faccio la cortesia sono d'accordo sul fatto che l'ETA abbia messo insieme ripeto una cozzaglia il problema è che la cozzaglia siete anche voi allora sai perché non siamo una cozzaglia ma rifesta insieme al partito democratico la lega non si capisce non si capisce appunto siccome stavo parlando volevo concludere allora sai perché non siamo una cozzaglia perché noi 25 anni fa ci chiamavamo Forza Italia non come te che prima ti chiamavi PD poi ti chiamate Lea Viva siamo qualità costante nel tempo e quando citi Piombino citi un luogo in cui non c'è una posizione ideologica contro il grassificatore no si dice vogliamo vedere se spostarlo di 15 metri rispetto alla banchina del porto perché viceversa poi ostruisci il passaggio non si dice non lo devi fare è un dibattito pubblico esattamente come quello che si fece sulla gronda di Genova dove il partito a cui apparteneva a un certo punto blocco tutto nonostante il dibattito quindi e finisco sul ricassificatore sul ricassificatore l'autonomia programmatica è il sinonimo di una totale incapacità di governare perché non è un indirizzo condiviso è quella che dichiarano un'alleanza elettorale che non è un patto di tipo politico è una truffa nei confronti di chi vota e che non vota una compagine di governo una collezione di governo vota una cozzaglia di partiti che non hanno nessun punto condiviso lei dice una volta che saranno al governo dovranno mettere insieme il programma non lo possono mettere insieme perché è uno simbolo un secondo perché voglio chiedere al professore un altro dei temi di cui si sta dibattendo si dibatte e si dibatterà tra l'altro oggi il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legislativo di attuazione della legge delega sulla riforma penale lei a proposito di giustizia ha scritto anche in maniera molto come dire come sa fare lei in maniera esplicita se vogliamo dire così dice che non si può fare a meno di rilevarne riguardo alla giustizia le disfunzioni e il cinismo con il quale viene amministrata ma è anche un problema politico secondo lei ma certamente sì volevo le rispondo immediatamente però mi stimolava vorrei fare un inciso perché mi stimolava il dibattito tra gli onorevoli e devo dire che proprio perché apprezzo l'onorevole Molè anche come politico ma non posso dimenticare che è un eccellente giornalista perché è chiaro che a lui non può sfuggire e sono certo neanche all'onorevole che il tema è ancora a monte cioè qui bisogna mettere mano sulla organizzazione interna diciamo interna dei partiti perché qui il tema della riforma dell'articolo 48 della Costituzione insomma della norma che regola lo dico in maniera molto semplicistica insomma l'organizzazione dei partiti è carente quindi piuttosto che lamentarci o essere soddisfatti perché qualcuno esce e comunque non si perde o qualcuno entra e si guadagna credo che a monte per l'interesse dei partiti stessi che per me sono fondamentali loro devono mettere mano devono contribuire a riformare tempo che lo si faccia a tutti i livelli sulla giustizia sulla giustizia sul cinismo sono fermo nel senso che credo che le riforme non bastino quelle in corso d'opera penale civile quella che si dovrà realizzare della magistratura certamente aiuteranno nella prospettiva a migliorare le condizioni della giustizia o dovrebbero essere migliorative se riusciamo a portarla a termine perché qui c'è un problema di realizzare tutti i decreti in corso e ottenere quindi i riscontri ma il punto è che il tema culturale che sullo sfondo non si affronta mai faccio sempre un esempio del povero testimone chiamato a testimoniare semmai è un dovere cifico fa chilometri per rendere la testimonianza arriva davanti alla porta del giudice e trova un cartello non qualcuno ma un cartello con su scritto l'udienza è rinviata e nessuno che si degna di dirgli scusi abbia pazienza abbiamo sbagliato c'è stato un problema ecco questo è il tema del cinismo della giustizia che non va confuso con la mala giustizia che è un tema diverso e su questo credo che il buonsenso e alcuni comportamenti potrebbero essere migliorati e certamente le cose potrebbero andare meglio Onorevole Paeta a settembre ci sarà anche la Leopolda i primi giorni di settembre e mancheranno pochi giorni a quel punto alle elezioni lei che Italia viva vede in quei giorni e soprattutto non temete che in qualche modo possa essere una Leopolda che Italia viva non vedrà più da partito no al contrario sono molto ottimista e sa perché perché in queste ore stanno arrivando moltissime disponibilità da parte di volontari che dichiarano di voler partecipare alla nostra campagna elettorale c'è un entusiasmo molto forte d'altro canto i delusi di Forza Italia che ne dica l'Onorevole Moulet è chiaro che la scelta è fatta con i sovranisti e li vedremo a voto i sondaggi credo che ci saranno notevoli delusi da Forza Italia anche da Calenda e persino dal Partito Democratico che in fondo diciamo con Renzi era diventato un partito che aveva diciamo comunque delle posizioni riformiste quindi sono convinta che noi saremo la vera sorpresa che potremmo raggiungere il 5% e penso che saremo anche la sorpresa in termini di qualità di dibattito politico nel nostro paese perché guardi il coraggio che abbiamo messo in campo noi cioè non stiamo con accozzaglie non stiamo con schieramenti spuri non stiamo con chi dice tutto il contrario di tutto in nome di un posto in nome di un seggio ma proviamo a giocarcela direttamente nel rapporto con i cittadini dicendo che cosa vogliamo fare per loro ora si sono toccati dei temi importantissimi in termini di riforme la giustizia pensiamo al lavoro portato avanti da Italia Viva in questi anni e noi non possiamo stare insieme a chi è giustizialista insieme a chi pensa che un avviso di garanzia sia già una condanna perché finché è un politico tutto sommato può anche difendersi con la stampa ma le persone comuni le persone diciamo che hanno problemi con la giustizia meritano di essere invece trattate con i loro diritti con la loro dignità e vi parla una persona che ha avuto un problema di carattere giudiziario e che ha terminato con una soluzione in sentenza passata in giudicato eppure io ricordo come dire il livello anche di cattiveria di discussione inquinata in quella fase noi abbiamo assolutamente il dovere di andare avanti anche sui temi della giustizia mi trova perfettamente d'accordo la riflessione che è stata posta quindi io sono convinta che Italia Viva avrà diciamo una grande possibilità di espansione durante questa campagna elettorale ma soprattutto lo percepisco dall'entusiasmo che c'è intorno a noi credo che sia così Onorevole Moulet via libera da parte del Consiglio dei Ministri al decreto aiuti bis voi siete soddisfatti 15 miliardi in diversi che hanno diversi capitoli ma una parte del sindacato lamenta delle deficienze veda il limite di un governo tecnico di emergenza è che non essendo un governo politico non può assumere su di sé alcune decisioni che solo un governo politico può avere cioè tu sul cuneo fiscale o sul lunatantum o sul bonus puoi mettere 1, 2, 5 30 miliardi ma se hai la capacità di andare in profondità prendi il reddito di cittadinanza e dici amici non può andare più così perché è un effetto distorsivo lo dai soltanto ai poveri prendi gli 8 miliardi li destini ad esempio per affrontare la crisi il super bonus dal 110 lo puoi portare al 90 o al 100% recuperi altri 4 miliardi puoi intervenire sugli extra profitti che le aziende stanno facendo in maniera esagerata esagerata con una illusione pazzesca e puoi prendere altri 10 miliardi ma lo puoi fare se hai un governo politico allora questa è una misura che come i vari decreti ristori sbagliati che facevano all'epoca dei governi conto 1 e 2 10 ce ne guardi ce ne scanse e liberi sono degli interventi limitati ma non risolutivi per essere risolutivo la politica si deve rimpadronire di un ruolo che gli fa prendere delle decisioni nel nome delle quali sposta poste di bilancio determinando qual è la politica del governo quindi bene questo decreto ovviamente sì però alla fine lascerà troppe persone scontente le imprese sono scontente i cittadini sono scontenti i pensionati quando un pensionato dici ma alla fine a me quanto entra in tasca 5 euro ma è ovvio che il pensionato si sente preso in giro e posso dire e io non mi sento dire di torto o dai delle risposte vere o viceversa non le dai che è peggio allora io dico con questo governo che io spero arriverà a fine settembre agli inizi di ottobre daremo quelle risposte vere serie reali che si possono dare ancora qualche secondo abbiamo pochissimi secondi onorevole non so con quali imprese parla l'onorevole Moulet io parlo con imprese che sono terrorizzate dall'idea di avere Giorgia Meloni premier e che invece si auguravano che Mario Draghi rimanesse presidente del consiglio e che riconoscono la forza politica a cui appartengo di avere voluto a tutti i costi il governo Draghi e di averlo difeso fino all'ultimo perché Draghi è garanzia di sicurezza anche in termini europei vorrò vedere il dibattito a livello europeo quando Giorgia Meloni dovrà andare a discutere del patto di stabilità lo vedrà penso diciamo che no spero di non vederlo e spero che anche con il contributo di Italia Viva ci siano le condizioni per avere Mario Draghi presidente del consiglio e immagino che tu potrai rifare il suo sottosegretario visto che oggi quel lavoro in qualche modo lo bolli come lavoro tecnico c'è stata tanta componente lo potete sequestrare Mario Draghi ve l'ha detto in tutti i modi signori io sono un premio di emergenza per un governo nazionale siamo in chiusura l'onorevole grazie grazie all'onorevole Mule per essere stato con noi l'onorevole Paita grazie al professor Villanacci grazie ancora per questa sera è tutto buona serata